e salve a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo episodio di Spyro Reign and Tini ecco questo momento recupero un'altra vita e affronteremo un altro livello scontro con sbuffone grazie a sbuffone non ho i palli da ridere ma c'è un altro boss capito che secondo me sarà più fotte del dottor scempro immagino qui ci sono i vivi che sparano un pander sparano pander rarrasso mettono i macchineri che si mettono a copiare i vivi imitano io voglio il copiletto di questi schifosi macchineri che mi imita ok scusate c'era vivi che interrompeva i vivi di Final Fantasy 9 ok cazzo eh come cazzo faccio sto vivi? ah no quelle sbuffone sbruffone come ti vogliamo chiamare? sbuffone o sbruffone? no non mi fredderete così facilmente grazie cazzo la bellina avevo la musichetta salvato Altair ma non quello la di Assassin's Creed grazie per avermi rivelato Spyro non hai idea di quanto tempo sono riposto in giro per cristallo e oh neanche io chi hai detto di essere? un limone solo o un'arancia boh nooo come faccia di far via adesso? e sono caduto come un deficiente ok ok stanno zioncate di nuovo come vedete chi c'è indoltre perchè non fa in cazzo no è normale ok qua dovrebbe esserci sbruffone sbruffone o come si chiama? è bellina la musichetta dai e dove? ecco qui sbruffone se ne va scappando via come un cotardo dove vai cotardo? e poi e poi e poi se ne va scappando via il più facile c'è addirittura più facile del dottor scempa del dottor scempio vabbè le ultime 5 gemme dove? me le devo ficcare nel culo nel culo del draghetto me le devo ficcare e vabbè penso che le recupererò in off camera non so due no no voglio fare sta figura sta figuraccia forse SPAC mi aiuterà ecco dove era oh abbiamo sbloccato anche un trofeo si chiama raccoglitore voi non potete vedere perchè sto registrando dalla PlayStation 4 perchè magari forse vi farò vedere tutti i trofei che che sblocco ogni in ogni gameplay che face però magari fosse tutto più semplice con con una scheda di acquisizione e poi chissà quanto costano mi sa che ho visto su internet mi sa che sono ancora parecchio costose pensavo che si siano otimizzati i prezzi ma abbiamo le schede di acquisizione per registrare su PlayStation 4 i gameplay per PlayStation 1 e Xbox One sono ancora costosi comunque ragazzi alla prossima è uscito ai vivi anzi no le imitazioni di vivi ragazzi alla prossima con il prossimo gameplay di Spyro ciao